In diretta proprio, quindi improvvisiamo questo show di Luca Ecco Luca, aiutato dal suo staff a completo, Niccolò e Isha Ecco Niccolò, spiega al nostro pubblico dove vi possiamo trovare Noi abbiamo un salone a Sardana, più 54, in via Mucini, numero 28C E a breve inaugureremo l'apertura di un nuovo salone, sempre a Sardana, in Piatta Luri Bene, quindi aspettiamo alcuni nostri clienti a venirvi a trovare E l'inaugurazione quando ci sarà nel locale? L'inaugurazione sarà tra il 28 e il 29 dicembre, appena prima del nuovo anno Benissimo, questo è un invito per tutti voi ad andare da Luca Benassi a Sardana Grazie! 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 Eccomi gli effetti speciali di Luca Grazie! 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 Grazie. 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 Ma tu sei così anche nel salone? Grazie. 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 Grazie.